Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. È sabato 19 novembre 2011 e sono ora le 15.15. Bene, titolo della trasmissione. Il capitale al tempo di Internet. Capitale? Il denaro al tempo di Internet, va bene? Bene, senza tanti preliminari, io vi leggo una parte di una simpatica intervista che appare sul quotidiano torinese odierno La Stampa, sabato 19 novembre 2011, primo piano, pagina 5. L'articolo è un'intervista, è di Tonia Mastro Buoni e l'intervistato è Daniel Gross, laureato in Economia alla Sapienza e Presidente del Centro Europeo per gli Studi Politici di Bruxelles. Eccolo qua cari, eh? Eccolo qua, vedete? Questo è l'articolo. Il titolo è fuorviante, il titolo Gross. In Europa ora cambiano gli equilibri. Beh, certo che cambiano gli equilibri, ma ci sono due frasi interessanti, per cui il capitale al tempo di Internet. Dunque, l'intervistatrice Tonia Mastro Buoni formula la seguente domanda all'intervistato non pensa che sia un problema il fatto che il nuovo governo sia un esecutivo tecnico, ma con lo stesso Parlamento di prima, cioè con gli stessi parlamentari di prima, cioè è arrivato Mario Monti, ha fatto il suo governo tecnico, ma deve stare sempre lì a prendere la fiducia da chi? È dallo stesso Parlamento di prima, che è stato dichiarato in idoneo appunto a governare l'Italia? Chiara la domanda? Ripeto, non pensa che sia un problema il fatto che il nuovo governo sia un esecutivo tecnico con lo stesso Parlamento di prima? Risposta, finché lo spread sarà a 500 punti, il Parlamento sarà docile. memorizzare la risposta, eccezionale, finché lo spread sarà a 500 punti, il Parlamento sarà docile. Ecco spiegato il motivo per il quale lo spread è rimasto alto, lo spread è differenziale tra il rendimento dei nostri BTP, dei titoli italiani, e il rendimento del Bund tedesco. Era altissimo quando Silvio Berlusconi dovette dimettersi, si è dimesso per questo Silvio Berlusconi, non è mica stato sfiduciato, lui poteva continuare a governare sino al sopraggiungere di un'eventuale sfiducia. E no, è stato un campanello d'allarme e di fronte al cuore non si poteva restare insensibili. E Silvio Berlusconi si è dimesso perché hanno detto che qua lo spread continua a salire e dicono poi che è colpa mia. Vabbè, io mi richiedo e vediamo che succede. però lo spread non si è abbassato e perché chi ha messo in moto la questione allo spread in Europa relativamente all'Italia ha detto vabbè, Silvio Berlusconi se ne andrà e però faremo un governo tecnico, bene, però il Parlamento è sempre lo stesso. Che ne sappiamo noi? Che cosa gli frulla per la testa ai mille parlamentari italiani? Allora, teniamoli sempre sottotiro col spread teniamoli sempre sottotiro anche se è cambiato il capo del governo che non c'è più Silvio Berlusconi ma c'è Mario Monti e noi a Mario Monti lo dobbiamo aiutare in modo che i parlamentari stiano buoni buoni a cuccia come si dice a cuccia. Lo spread infatti non si è abbassato mi pare che si sia addirittura alzato perché il fatto che si sia alzato serve a tenere sottotiro i parlamentari ergo l'intero paese. chiaro? Bellissima. Non pensa che sia un problema il fatto che il nuovo governo sia un esecutivo tecnico con lo stesso Parlamento di prima? Risposta. Finché lo spread sarà a 500 punti il Parlamento sarà docile. che bello avete avuto adesso finalmente la spiegazione della funzione dello spread e poi entriamo nel tema il capitale al tempo di internet. Allora cari amici oggi noi siamo nell'Occidente altamente civilizzato altamente benestante in crisi in crisi naturalmente per me e anche in crisi irreversibile c'è anche il mio recentissimo video intitolato la crisi è sistemica di Bari che ci sia un titolo di pochi giorni fa intitolato la crisi è sistemica la frase era di Manuel Barroso anzi per la precisione la frase di Manuel Barroso era la crisi è ormai sistemica io ho fatto il video intitolato la crisi è sistemica qualche giorno fa ma oltre un anno fa avevo già fatto i video relativi a intitolati Occidente Defoe un anno fa e avevo detto che ormai è l'intero occidente ad essere in stato di defoe al di là dei singoli paesi al di là dell'acronimo PIX dove la I balla e non balla le I ora sono senz'altro due da qualche mese sono senz'altro due le PIX PIX all'acronimo PIX dove P vuol dire Portogallo una I vuol dire Irlanda l'altra I vuol dire Italia la G vuol dire Grecia e la S vuol dire Spagna voi sapete che il destino di Berlusconi in fin di conti è stato il destino di Pappantreo in Grecia il destino del grande Luis Zapatero in Spagna il destino di Socrates in Portogallo e via dicendo ora si comincia a tremare anche in Francia c'è qualcosina nell'aria anche per la Germania per cui ci sono anche i miei video che guarda caso e anche Parigi trema e poi anche Berlino trema sono titoli di miei video questi va bene la crisi è ormai sistemica dice Manuel Barroso l'ha detto due giorni due tre giorni fa ma io questo l'avevo già detto nei miei video di un anno un anno e mezzo fa intitolato e occidente defo e la Cina è vicina e poi titoli un pochettino più più pericolosi come ipotesi apocalisse ipotesi terza guerra mondiale bene torniamo in tema dunque finché lo spread sarà 500 punti il Parlamento sarà docile se è docile il Parlamento dovrebbe essere docile pure il Paese dovrebbe essere così dovrebbe essere il Parlamento rappresenta il Paese se il Parlamento manifesta docività parlerà con docività alle televisioni e il popolo dovrebbe essere docile ma qual è la funzione degli spread perché il titolo di questo video è il capitale al tempo di internet perché sino a pochi decenni fa diciamo nel tempo patriarcale precedente ad internet precedente al web precedente alla rete e al posto degli spread potevano arrivare i cannoni come si faceva o si fa ancora nelle cosiddette repubbliche delle banane e quando il popolo chiede troppo dal punto di vista di chi comanda chi comanda concede al popolo un relativo benessere per la pace sociale vi riseguito però se le esigenze del popolo aumentano 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 e viene messo in crisi il rapporto ricchi poveri che poi è l'antico rapporto tra patrizi e plebei tra spartiati e i roti tra servi della gleba e feudatari e tra i principi granduchi zaristi i servi della gleba e quando si viene messo in crisi in una repubblica delle banane arrivano i carri armati ma in una società avanzata appunto al tempo di internet si usa tutta un'altra delicatezza tutta un'altra dolcezza e non c'è nessuna differenza tra i carri armati e lo spread cambia la forma ma la sostanza è quella sono bellissime queste parole il parlamento sarà docile eppure di fronte ai carri armati si diventa docili e anche di fronte allo spread finché lo spread sarà a 500 punti il parlamento sarà docile quindi se il parlamento sarà docile vuol dire che Mario Monti potrà fare il suo mestiere mi ricordo cari amici potrà fare il suo lavoro il suo lavoro Mario Monti non lo fa protetto dai carri armati lo fa protetto dai movimenti dello spread perché i movimenti dello spread hanno a che fare direttamente con il nostro benessere con le prospettive presenti e future del nostro benessere sono delle palle di cannone invisibili però noi le vediamo queste palle di cannone le vediamo con gli occhi della nostra mente insuperabile insuperabile ricordate il nome di questo grande economista ha lavorato in economia alla sapienza daniel gross si è lavorato in economia alla sapienza perché il suo nome sia un nome non italiano daniel gross dice la verità ha detto io non so se questa verità voi l'avete letta da qualche altra parte ma è una verità interessante nel senso che ci spiega per quale motivo lo spread non si è abbassato dopo la caduta di Silvio Berlusconi capito è perché se si fosse abbassato subito dopo la caduta di Berlusconi i parlamentari avrebbero ripreso vitalità la vitalità contestatoria volontà contestatoria nei confronti di un qualsiasi governo specialmente nei confronti di un governo tecnico che è strano con la politica e invece tenendo alto lo spread c'è la minaccia c'è la minaccia c'è la minaccia la minaccia lo spread alto spread alto vuol dire che insomma che chi ha i soldi non te li presta non te li presta e se tu non hai i soldi se i governi non hanno i soldi è tutto finito c'è un'insurrezione popolare e allora certe cose però vanno fatte capire con dolcezza avete visto quanto è dolce Mario Monti in Parlamento io gli ho dedicato a Mario Monti tanti video a partire dal primo video intitolato Mario Monti senatore a vita poi ho fatto scusate il termine il video è e mo beccatevi sta spread banana poi mi pare ieri mattina ho fatto il video intitolato Mario Monti discorso alla nazione dove io Serafino Massoni ho spiegato al web che cosa avrebbe detto al Parlamento che cosa avrebbe detto al Parlamento il Premier Mario Monti se avesse potuto parlare in piena libertà non gliel'ha potuto dire Mario Monti non ha potuto dire al Parlamento siete degli incapaci non siete stati capaci di governare l'Italia sia i berlusconiani che gli altri berlusconiani poi ne avrebbe detto di tutti i colori Mario Monti agli altri berlusconiani perché gli avrebbe detto ma che cosa avete da strillare contro Berlusconi Berlusconi c'è da 17 anni in questi 17 anni 9-10 anni al governo c'è stato Berlusconi gli altri 7 anni amici siete stati voi e vabbè ma il popolo poteva capire che Berlusconi non andava bene lo conosceva bene il popolo l'ha conosciuto bene Berlusconi e allora perché il popolo italiano tanto democratico fatto tutto di persone per bene perché nella primavera del 2006 c'erano elezioni perché al professor Romano Prodi non gli ha dato una grande maggioranza in modo di mettere il governo Romano Prodi al sicuro da alcune avventure come quella di Cesare Mastella se la maggioranza di Romano Prodi fosse stata forte diciamo che il trattimento di Cesare Mastella sarebbe stato irrilevante invece voi italiani gli avete dato a Romano Prodi una maggioranza così riscata che Cesare Mastella ha potuto fare il dispetto al governo Romano Prodi si è tirato fuori il governo Romano Prodi è caduto ma di chi è la colpa di Cesare Mastella ma no è di voi elettori che avevate già tutti gli elementi per conoscere il signor Berlusconi no ce l'avevate tutti il popolo italiano tutti voi cittadini italiani lo conoscevate Berlusconi tutti lamentati di Berlusconi tutti lamentati di Berlusconi però nella primavera del 2006 gli avete dato a Romano Prodi una maggioranza riscata allora che cos'è cosa vuol dire vuol dire che gli italiani sono divisi a metà e metà metà per il centro grosso modo grosso modo a secondo del variare delle vicende elettorali un 50% per il centro-sinistra un 50% per il centro-destra d'accordo allora quelli del centro-sinistra per raddrizzare l'Italia dovrebbero fucilare tutti i cittadini milioni e milioni di cittadini del centro-destra così l'Italia si purifica si raddrizza e poi ci saranno soltanto i governi delle persone pure quelle che io chiamo le persone geneticamente pure e bisogna fare i conti con quelli del centro-destra che in 17 anni in fase alterna hanno mandato Silvio Berlusconi a Palazzo Chigi per 9-10 anni sì però ci sono stati 7-8 anni durante i quali a Palazzo Chigi c'è stato il centro-sinistra il centro-sinistra non ha mai toccato il compito di interesse di Silvio Berlusconi chissà perché il centro-sinistra non ha mai toccato in questi 17 anni quando stava il governo centro-sinistra non ha mai toccato i privilegi della casta che sono quelli che fanno arrabbiare il popolo va bene e qua soltanto sotto gli effetti dello spread la casta comincia a parlare di se stessa chiaro? allora cari amici ai tempi di internet non si possono mandare i carri armati perché in Italia in Grecia in Spagna in Portogallo in Irlanda eravamo vicini a una situazione di anarchia sì sì non si vedeva non si vedeva fotograficamente la situazione di anarchia la situazione di anarchia però stava nei fatti e quali erano i fatti per cui poi si è dovuto intervenire nei confronti di queste situazioni anarchiche non con i carri armati ma con il movimento dello spread come è stato fatto in Grecia anche in Grecia chi detiene il capitale ha fatto cadere Paco Andreu un governo tecnico esattamente come il nostro stesse cose con la Spagna con Portogallo con l'Irlanda e stesse cose con l'Italia ma qual era questa situazione di anarchia un'anarchia dolce dolce senza le armi senza le bombe le bombe a mano niente qual era questa anarchia e l'anarchia di questi paesi che ora diciamo sono sotto il tiro dei carri armati dello spread era tutti i paesi entrati nell'euro tutti i paesi che lo sporcavano l'euro tant'è vero che l'ha fulconiato per questo motivo e l'acronimo PIC PIC maiale se ci metti la S PIC diventa maiali poi se invece di una sola I ce ne metti due Irlanda Italia e vabbè non è corretto morfologicamente parlando ma si capisce sempre paesi PIC maiali nei confronti dei paesi maiali se l'eurozona l'euro tower voleva sopravvivere doveva mandare i carri armati una volta aveva mandato i carri armati perché in pratica è come un impero l'eurozona è grossomodo come un impero che ha degli stati grossomodo Irlanda Portogallo Spagna Italia e Griscia che non si comportano bene stati che vorrebbero magari gestirsi da soli ma se si gestiscono da soli l'impero finisce allora bisogna sottometterli una volta si sarebbe intervenuti con i carri armati ho capito anche se l'eurozona non ha una sovranità politica però c'è una sovranità monetaria esiste la sovranità monetaria è stabilita nei patti nei patti che riguardano l'eurozona che le euro per entrare dentro l'eurozona ci vogliono certe regole bisogna rispettare certe regole eccetera 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 e allora per evitare la disgregazione una volta avrebbero mandato i carri armati il potere economico una volta avrebbe mandato i carri armati a proteggere i governi non necessariamente a sparare contro i cittadini ma a mettere paura ai cittadini oggi fa ballare lo spread d'accordo? ma dove era l'anarchia? è perché l'anarchia voi ve lo immaginate come l'anarchia gli anarchici voi ve li ricordate come quelli raccontati nei romanzi di Dostoevsky quelli simpatici anarchici che andavano in giro con le bombe con le bombe a mano anzi avevano si fasciavano ci mettevano delle cinture piene di esplosivo e per cui la polizia azzerista aveva pure paura di andarli ad arrestare e magari gli sparava addosso a distanza ma facevano fatica i poliziotti i zaristi facevano fatica ad andarli ad arrestare perché loro si facevano esplodere capito? ecco uno si immagina che gli anarchici si immagina se Serafino Masoni parla di anarchici va subito a pensare a quegli anarchici là dell'ottocento ma no ma anche l'anarchia come qualsiasi altra realtà è sottoposto alla legge del cambiamento capite cari amici cambia l'anarchia si manifesta in tante maniere così come il patriarcato si manifesta in tanti modi il capitalismo si manifesta in tanti modi ecco così anche l'anarchia si manifesta in che modo in che modo in un organismo sociale per esempio l'Italia e cominciano a saltare le regole del gioco quali sono queste regole del gioco le regole del gioco sono i sindacati che hanno una funzione positiva nella fase iniziale hanno una posizione una funzione positiva tutelano i lavoratori i sindacati però poi piano piano mano a mano che i lavoratori sono tutelati che i contratti di lavoro si rafforzano si potenziano eccetera mano a mano il sindacato prende ancora più potere e non conosce più i propri limiti insomma i propri limiti abbiamo dei limiti e come tutti noi esseri diventi abbiamo dei limiti nei confronti della morte e non è che puoi chiedere all'infinito di procrastinare la tua morte ai medici non gli puoi chiedere in continuazione fammi campare fammi un'operazione qua a un certo punto devi morire e così anche il sindacato doveva capire che non poteva mandare sempre in piazza la gente a scioperare a scioperare contro chi? si la gente poteva essere mandata in piazza a scioperare quando il welfare era in espansione c'era il posto di lavoro per i giovani ma cosa vuoi mandare a scioperare ma non solo in Italia in Spagna in Grecia non ne parliamo della Grecia in Portogamera cosa vuoi mandare a scioperare gli impiegati dello Stato per il nuovo del contratto di lavoro quando ci sono i giovani che non hanno il posto di lavoro cioè doveva capire certi limiti il sindacato non poteva fare il sindacato manifestazione a oltranza a meno che a meno a meno che di 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 essere inconsapevole il sindacato che così instaurava una forma ovattata di anarchia se tutte le categorie si lamentano dicevo ma ci sono i ricchi ci sono i ricchi ma cari i ricchi ci sono sempre stati i ricchi i ricchi e i poveri ve l'ho detto prima ci sono sempre stati i ricchi i poveri c'erano in Roma i patrizi e i prebei c'erano a Sparta e gli spartietti e gli loti c'erano nel medioevo c'erano persino in Francia la Francia rivoluzionaria aperta la parente ci sono quattro miei video dedicate alle eresie alle eresie interne al patriarcado per cui sarebbe bene che voi quando avete tempo poteste andarvi a vedere che sono uno l'eresia nazista che voleva i nazisti volevano eliminare gli ebrei quali fondatori del patriarcado l'eresia nazista poi l'eresia sovietica i sovietici volevano eliminare di grosso modo la proprietà privata allora eresia nazista eresia sovietica poi c'è anche l'eresia illuministica che fa riferimento alla Francia rivoluzionaria e tu ci sul fondo c'è l'eresia capitalistica è l'ultima delle trasmissioni sulle eresie l'eresia capitalistica e dopo l'eresia capitalistica io non avrei potuto dire niente di nuovo mi sto limitando qua così a contemplare gli eventi patriarcali ma con l'eresia capitalistica io ho detto tutto quello che c'era da dire d'accordo su questa faccenda qua dell'occidente in defo allora i ricchi e poveri ci sono stati pure ai tempi della rivoluzione francese tante volte vi ho detto che Robespierre nel bienio del terrore sono spariti stati chigliottinati centinaia di migliaia tra ricchi e vescovi cardinali che cosa c'è stato i ricchi e poveri cari ci sono sempre stati non è che perché siamo in democrazia perché c'è internet che si può eliminare la disparità delle ricchezze e provateci ve l'ho detto allora ci hanno provato in Francia e non ci sono riusciti perché dopo la rivoluzione francese c'è stata la dittatura napoleonica e poi la restaurazione e i ricchi sono tornati più numerosi e più ricchi di prima ci hanno provato i soviet la rivoluzione sovietica quanti principi quanti granduchi ha fatto fuori la rivoluzione sovietica è nata l'URSS e poi vedete con i tempi di Gorbachev l'URSS è crollata poi c'è stato Boris Boris Yeltsin poi è arrivato sono arrivati gli ultimi qua e nella ex-URSS oggi che si chiama Russia oggi ci sono più ricchi oggi nella Russia di oggi che non è i tempi dell'Ukzar e i russi nella Russia di oggi si chiamano oligarchi vi ho detto tante volte che ogni singolo oligarca è mille volte più ricco del nostro Silvio Berlusconi quindi è inutile dire è inutile se è questa che diventa anarchia una nuova forma di anarchia cioè il fatto che ci siano da partire dalla seconda guerra mondiale siano apparse le televisioni si è potenziato la radio il cinematografo si è apparso internet internet il web la rete e non è che ha fatto cambiare la sostanza del patriarcato la sostanza del patriarcato è sempre quella quella che io ho illustrato in video come summa patriarcale gli illuminati l'ideologia sovietica ora se i sindacati e gli stessi partiti politici democratici di sinistra perdono di vista che non è possibile sbarazzarsi delle differenze il patriarcato non è possibile la storia tutta la storia ce l'ha insegnato che più i ricchi sono stati ammazzati nei corsi delle rivoluzioni e dopo è arrivata sempre una reazione dentro la quale i ricchi sono diventati più numerosi e più ricchi di prima ecco non c'è niente da fare e perché non c'è niente da fare ve l'ho spiegato nel video intitolato gli illuminati certo che io non posso ricominciare da capo ogni volta a rifare tutti i video precedenti ve le indico se voi andate a vedere i video gli illuminati e summa patriarcale capite per quale motivo ci saranno sempre i ricchi e i poveri però con l'avvertenza di quello che diceva Platone non c'è re che non discenda da uno schiavo e non c'è schiavo che non discenda da un re cioè nel senso che i ricchi non sono ricchi per l'eternità i poveri non sono poveri per l'eternità c'è sempre un rimescolamento delle sorti la dinastia di Savoia alle sue origini era fatta di soldati di ventura ci sono voluti secoli perché i Savoia poi diventassero dei piccoli feudatari principi poi sovrani perché dei secoli poi vedete la dinastia è caduta oggi i Savoia sono benestanti ma i Savoia di oggi sono dei morti di fame di fronte ai Savoia re d'Italia questa è la dinastia degli agnelli quelli della Fiat alla fine dell'Ottocento mi pare che c'avessero un'officina per la riparazione delle biciclette il fondatore mi pare che fosse un ufficiale dell'esercito non ricordo bene però alla fine dell'Ottocento quelli della Fiat non erano nulla erano come noi e dopo sono diventati i patroni della Fiat di un impero automobilistico chiaro quindi ricchi e poveri ci saranno sempre e ve l'ho spiegato nei video gli illuministi summa patriarcale l'ideologia ebrale l'ideologia ebraica però spiegandomi pure che Pratone diceva osservava aveva ragione che non c'è schiavo che non discenda da un re non c'è non discenda da uno schiavo cioè non siamo i ricchi non sono ricchi per l'eternità e non sono stati ricchi per l'eternità e così i poveri c'è un continuo movimento rimescolamento tra ricchi e poveri anche se per ovvi motivi i poveri sono sempre molto più numerosi dei ricchi poi c'è la fascia tra ricchi e poveri quella che chiamiamo la classe media che è in continuo movimento ascensivo o discensivo allora quando si perde il concetto che è impatriarcato impatriarcato che è quello che io ho descritto nel mio video gli illuministi nell'altro video summa patriarcale nell'altro video ideologia ebraica e quando le forze politiche sociali i sindacati perdono di vista che non è possibile andare oltre un certo limite e si entra in una situazione di anarchia una anarchia soft ma sempre anarchia è non si possono mandare nelle piazze in continuazione la gente a scioperare in continuazione in continuazione e ultimamente tutti i sindacati avevano perso negli ultimi tempi diciamo la visione di come andavano le cose in Italia ma anche in occidente ma come se abbiamo tanti disoccupati cosa li mandiamo a fare i lavoratori impiegati o operai a scioperare nelle piazze andiamo è una cosa che per me grida vendita al cospetto di Dio e di fronte a delle generazioni di giovani disoccupati si mandano quelli già tutelati a scioperare ecco cosa vuol dire che si è instaurato si era instaurato in una parte dell'impero eurozona era un impero monetario non era un impero tradizionale gli imperi tradizionali sono di natura politica di stampo politico e il nostro era un impero che aveva già avanzato i tempi perché era un impero economico d'accordo non c'era una sovranità politica c'era soltanto la sovranità dell'euro e sappiamo che l'euro è detenuto nelle mani dei privati tanti mi dicono perché devono l'euro cioè le monete quindi in ogni caso devono stare in mano dei privati allora io gli dico che se noi mettiamo la moneta ma scusate su che cosa si basa il patriarcato cosa si basa si basa sulla proprietà sulla proprietà pubblica o privata e quante volte vi dovrò far vedere questo mio romanzo storico mitologico la stirpe del serpente quante volte non basteranno mai catalogo a liberti editore cari non basteranno mai diciamo i denari deve stare nelle mani degli stati ma gli stati sono gestiti dai politici i politici rappresentano il pubblico i politici non rappresentano neanche la proprietà privata si la vorrebbero la proprietà privata i politici tant'è vero che sono pagati come i principi sono pagati ho fatto i video che ho fatto sulle paghe dei politici andatevi pure a vedere per piacere il mio video intitolato la paga dell'onestà la paga dell'onestà dove faccio il capovolgimento categoriale delle retribuzioni la paga dell'onestà non dico l'altro mio video intitolato se io fossi il premier che si rifà ancora a Platone il quale diceva che i governanti non devono avere la proprietà privata però era un idealista Platone diceva delle cose giuste ma era un idealista e dice i miei tanti giovani mi chiamano la monita la monita deve essere in mano anche so allo Stato ma lo Stato è gestito dai politici i politici non sanno trattarlo il denaro e i politici non sanno trattarlo il denaro per il semplice motivo che non sudano per guadagnarselo capito i politici non hanno nessuna considerazione per il denaro perché i politici non hanno mai sudato per guadagnarselo quindi lo sperpirano invece il denaro cari amici per il patriarcato per la religione patriarcale che è la vera grande religione e il dio del patriarcato è il dio denaro mandate a vedere i miei video intitolati l'ideologia ebraica gli illuminati è una religione e se la chiesa cattolica vi mette nelle vostre mani durante la cerimonia religiosa l'ostia consagrata però la chiesa cattolica non è che che le sperpera le pissi di come si chiamano le ore le tratta con delicatezza ve le dà una per uno o no tre o quattro per uno e così così il denaro viene distribuito con delicatezza se noi diamo il denaro in mano ai politici i politici i politici fabbricano tonnellate 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 di denaro tonnellate e lo fanno cadere con gli aeroplani giù dal cielo sulle città e dopo non vale più niente il denaro e il denaro va trattato in maniera religiosa ma questo non lo dico io cercate di capire questo lo dice il patriarcato non lo dice Serafino Massoni questo perché chi non capisce queste cose è destinato a subirle capito chi queste cose non le capisce è destinato a subirle il denaro non può stare nelle mani degli stati non c'è mai stato quasi mai stato nelle mani degli stati è sempre stato nelle mani dei banchieri principi re imperatori si sono sempre rivolti ai banchieri e privati per fare le guerre per fare le guerre perché solo i banchieri hanno rispetto per il denaro gli altri no gli altri no capito il denaro va trattato io mi sto parlando dell'ideologia patriarcale non vi sto mica parlando di come la penso io e che sia chiaro come la penso io è già stato scritto qua è già stato scritto qua l'ho già detto nei video subba patriarcale gli illuminati l'idologia ebraica in tanti altri video io vi sto dicendo come stanno le cose affinché voi capiate come va il mondo d'accordo? allora c'era uno stato di anarchia e le forze sociali avevano perso il senso del limite non ci si va oltre un certo limite a meno che voi non vogliate fare la rivoluzione volete fare la rivoluzione accomodatevi prendete i fucili e fate la rivoluzione e facciamo quello che è stato fatto in Francia quello che è stato fatto in Russia al tempo della rivoluzione sovietica va bene prendete i fucili accomodatevi chi vuol farla la rivoluzione la faccia e tanto poi torna tutto come prima d'accordo? allora il denaro non può essere stampato dallo stato perché poi se è stampato dallo stato viene gestito dai politici ma i politici che fanno per farsi eleggere il parlamento a te che mi stai ascoltando ti dicono dammi un voto dammi il tuo voto che io ti faccio il liceo sotto casa eh? capito? ma i muratori non ce vanno a lavorare per fare il liceo se i soldi vengono distribuiti dal cielo eh cari cari sapeste com'è complessa il patriarcato la questione della moneta e come si è complicata ancora di più un patriarcal capitalismo e quindi questa era una situazione di anarchia questa situazione di anarchia e l'anarchia era che noi volevamo vivere con i soldi degli altri cioè stavamo vivendo a debito alle forze politiche e ai sindacati mi impiegavano un tubo da dove venivano i soldi dai dai che ti rinnovo il contratto di lavoro ma insomma ci operavano gli impiegati delle banca che stanno bene e allora cosa devono fare i giovani disoccupati ma andiamo sindacati ma adeguiamoci alla realtà ora non era più da scioperare 4, 5, 6 anni fa 2 anni fa non era più da scioperare per rinnovare i contratti di lavoro degli insegnanti o dei bancari o via di seguito riguardo all'Italia la Spagna il Portogallo la Grecia la Grecia che con 12 milioni di abitanti la Grecia aveva 4 milioni di pubblici dipendenti e poi i sogni si pagano si pagano i sogni andate a vedere cosa è successo in Grecia che tutti questi 4 milioni di pubblici dipendenti su 12 milioni di abitanti erano tutti pagati a debito un debito mostruoso in Grecia per cui i governi della Grecia dovettero più volte falsificare i loro bilanci per poter avere i prestiti dalle banche europee e anche poi da altri paesi extraeuropei come la Cina e come l'India e di seguito la Cina mi pare che si è presa in affitto per 15 anni il porto del Pireo che è uno dei porti centrali del Mediterraneo ma la Cina si sta comprando industrie dappertutto la Cina tiene in mano gli stessi Stati Uniti allora c'era questa situazione di anarchia strisciante che era una specie di rivoluzione da parte di questi paesi mediterranei però sino su all'Irlanda nei confronti dell'impiero economico dell'Eurozona e allora non potendo mandare ripeto mi manca il potere politico all'Eurozona ma c'è il potere puro il potere puro e quello economico e allora si è messa a far ballare lo spread e perché Germania e Francia sono nei guai però hanno detto vabbè noi Germania e Francia mica vogliamo essere precipitati in fondo all'oceano per colpa di questi nostri paesi alleati dove si va in pensione presto parliamo di qualche anno fa adesso si stanno raddrizzando le cose in Italia ma si comincia adesso vanno in pensione presto e c'hanno i tempi che dobbiamo mantenere le nostre pensioni noi della Germania noi della Francia si va bene anche adesso io parlo di un anno fa di due anni fa perché dobbiamo mantenere noi gli italiani ma che se mantengano da soli se mantengono il popolo tedesco non vuole mica lavorare per noi la Merkel non è mica la Merkel non è mica emanazione dei poteri forti la Merkel la Merkel è il cancediere la cancediera c'ha i suoi lettori gli elettori il popolo tedesco gli operai che lavorano in fabbrica e dicono noi mica vogliamo pagare tasse al governo tedesco perché poi il governo tedesco vada a prestare i soldi alle italiane che magari vanno in pensione presto che vanno alla bella vita vanno a Sharm al Sheikh vanno le Maldive no ecco guarda sono costretti a far ballare lo spread lo spread anziché i cannoni lo spread lo spread lo spread lo spread cari era una situazione di anarchia e anche se gli anarchici sono dei sognatori gli anarchici ma non esiste un solo anarchico in questo mondo perché uno per essere anarchico non può vivere in una città anche in un paese per fare l'anarchico uno dovrebbe andare a abitare sulla cima del Monte Bianco perché io lo voglio vedere l'anarchico quando c'ha il mal di pancia o gli fanno mal i denti sei anarchico o se va a cercare le strutture sanitarie e se va presto a dire io sono un anarchico sono un anarchico cari 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 beh cari ecco perché il capitale al tempo di internet il capitale al tempo di internet non si difende con i cannoni almeno nei paesi più diciamo civilizzati nei paesi più civilizzati e anche ancora siamo ancora più ricchi tutto sommato di benessere non di denaro di benessere e il denaro si difende con lo spread lo spread allora giù ci si infundo e vi faccio rileggo di nuovo la domanda con risposta domanda della giornalista Tonia Mastrubuoni non pensa che sia un problema il fatto che il nuovo governo di Mario Monti il nuovo governo sia un esecutivo tecnico con lo stesso parlamento di prima risposta finché lo spread sarà a 500 punti il parlamento sarà docile tutti buoni giù tutti buoni e per forza hanno sbagliato loro hanno sbagliato loro e perché hanno sbagliato andate a vedervi il mio video dove spiego perché hanno sbagliato loro per cui adesso sono stati diciamo così bocciati bocciati dichiarati incompetenti andate a vedere il mio video intitolato Mario Monti discorso alla nazione adesso Mario Monti è protetto dei carri armati cioè dallo spread che si mantiene sempre alto in modo che i parlamentari che non sono stati capaci di governare l'Italia e che sono stati conniventi con i sindacati e di seguito a portare l'Italia in una situazione di pressoché di anarchia adesso tutti buoni tutti buoni e lo spread sarà alto ancora sino a quando Mario Monti avrà avvarato le prime misure quando il potere economico dell'eurozona vedrà che le prime misure vere vere non fitte vere sono passate con i parlamentari buoni come premio lo spread continuerà a calare comincerà a calare dopo il varo di ogni misura lo spread calerà capito? e si fa così con la gente che non ha capito come funzionano le cose a questo mondo cari io non le condivido queste cose ma queste sono le cose che capitano da quando è nato il padriercato ed è inutile fare come i mosconi che vanno continuamente a battere la testa contro il vetro e chi non è contento della situazione prego si accomodi imbracci i fuscili e faccia la rivoluzione francese o quella sovietica va bene? va bene cari amici ah poi godetevelo questo qua eh lo trovate sul quotidiano la stampa di oggi bellissimo ma io non avevo mai sentito una diciamo così una interpretazione dello spread così sincera mai sentito da nessuna parte bravo Daniel Gross bravo hai detto la verità grazie cari amici e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni grazie a tutti